Un incontro fraterno, un abbraccio di consolazione e di incoraggiamento a proseguire sulla strada della giustizia sociale e della pace tracciata dal beato Oscar Romero. Si svolge così l'attesa visita ad limina dei Vescovi di El Salvador che lunedì in Vaticano incontrano il Papa in un clima di grande gioia e speranza che riesce ad alleviare le fatiche di una chiesa remota, ferita, oppressa dal dramma della miseria e della violenza. Monsignora José Luis Escobar Alas, arcivescovo di San Salvador e presidente della conferenza episcopale del paese latinoamericano. Un dialogo molto interattivo. È stato un dialogo molto interattivo. Il Santo Padre non ha voluto affidarci un messaggio esplicito, ma ha preferito invece che parlassimo. Non c'era un ordine del giorno. Il dialogo era tutto libero. Siamo stati noi a chiedergli di varie cose e lui ha risposto a tutto con un'immensa bontà e invitandoci ad essere autentici e a lavorare per il Vangelo con gioia. A essere autentici, a lavorare per l'Evangelio con allegria. Martedì la messa tutti insieme a casa Santa Marta, ancora nel ricordo di Monsignor Romero, ucciso dagli squadroni della morte il 24 marzo del 1980, mentre celebrava l'Eucarestia nella cappella dell'ospedalito per i malati di cancro. Sulla sua tomba pregò San Giovanni Paolo II nel 1983 e poi nella 1996. Un martire molto amato che è stato beatificato nel maggio del 2015 e di cui oggi tutto il popolo del Salvador attende la canonizzazione, ora che si è appena conclusa l'istruzione del processo per il miracolo. Ancora Monsignor Escobar Alas. Anche in senso sociale la figura di Monsignor Romero ci ispira molto, perché egli ha dato la vita per la pace, lottando affinché non ci fossero più ingiustizie e violenze per darci la possibilità di vivere da fratelli. Questa è dunque la sua grande eredità. La sua figura ci ispira a vivere in pace, fratellità e giustizia, compito che stiamo portando avanti. A Francesco i Vescovi raccontano le sfide quotidiane che si trovano ad affrontare in un paese dove la violenza metropolitana delle bande criminali minaccia quotidianamente la vita dei salvadoregni. Parlano della piaga del narcotraffico e dell'emarginazione, così come dello sfruttamento indiscriminato delle risorse minerarie che danneggia le popolazioni indigene. Ma la preoccupazione più grande dei presoli è per ciò che sta accadendo sul fronte delle migrazioni. Quanti migrano soprattutto negli Stati Uniti, ma anche in altri paesi, sono persone buone, dai nobili ideali, lavoratori con principi che vogliono mantenere la loro famiglia e perciò è triste che siano oggetto di maltrattamento. Di tante ingiustizie fino al punto di perdere la vita in questo viaggio verso gli Stati Uniti che passa per il Messico, attraverso il deserto. È un'ingiustizia, così come anche il fatto che anche gli Stati Uniti li considerano criminali. Stiamo ora subendo la pressione di una possibile deportazione di massa perché è stato affermato, come è noto, che con il nuovo Presidente americano chi non ha i documenti che ne attestino la residenza legale deve tornare al proprio paese. L'eredità del Beato Romero conclude allora Monsignor Alas è oggi più che mai importante per ripristinare un clima di fiducia e colmare quei vuoti di giustizia, pace e verità che uccidono tanto le persone quanto gli ideali e le speranze.